ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi parleremo di come letto dal titolo doppia batteria sul monopattino elettrico però ragazzi questo discorso vale ovviamente anche per la bici le bike tutto ciò che va diciamo batterie litio micro mobilità la problematica più grossa ragazzi di un sistema con doppia batteria qual è oltre al peso perché ovviamente oltre al peso che hai due batterie e ragazzi due batterie buone che siano buone hanno un peso non indifferente anche perché perché se io vado a comporre un pacco batterie anche il volume attenzione perché un pacco batterie realizzato con celle 18 650 per esempio 21 700 ha un peso e un volume che è direttamente proporzionato alla qualità delle celle stesse ti faccio questo esempio se utilizzo celle da 2000 miliamper ora e ho lo spazio che è x per x per x perfetto e io in quello spazio che per esempio è il sottopedana del monopattino o il box del porta batterie delle bike posso farci entrare 8 celle tutto riempito al massimo avrò x milliamper ora ecco x capacità ma se vado a utilizzare celle migliori sia di qualità che come capacità come sappiamo e questo te lo voglio ripetere sempre la migliore celle oggi in commercio con contenitore 18 650 ha una capacità di milliamper ora di non oltre 3500 milliamper ora esiste qualche variante che può anche arrivare a 3600 però in commercio ce ne sono pochissime e costano uno sproposito ti faccio un esempio quella che forse io poterò utilizzare saranno le samsung samsung da 3500 sono delle ottime celle delle buone celle andando a fare il pacco batterie con celle ragazzi da 3500 che cosa va a succedere succede che hai più milliamper ora volendo attenzione con meno ingombro con meno peso però ragazzi a quel punto che vai a creare un pacco batterie con celle buone perché non occupare tutto lo spazio che hai a disposizione è giustamente perché dico io se è vero che posso risparmiare volume posso risparmiare anche peso a confronto di una batteria scadente è verissimo perché essendo la singola cella più capiente mi quasi raddoppia la proporzione perché se quella per esempio era da 2000 e queste sono da 3500 capisci bene che 1500 milliampere ora in più in più cada una ne metti due sono tre ampere ora in più già solo con due paralleli hai capito bene che la differenza c'è perfetto ora mettere in parallelo le batterie e allora innanzitutto tutti i pacchi batterie che si rispettino devono avere il suo gruppo di controllo e ci sono monopattini che vanno a 36 monopattini che vanno a 48 monopattini quelli più spinti che arrivano anche a 60 volt il tutto comunque devo avere tutte una bms la bms è una scheda elettronica che bilancia la carica delle singole celle diciamo saldate in serie perché un pacco batterie è un insieme di celle connesse in serie parallelo perfetto la bms cosa fa carica in maniera diciamo bilanciata scarica in maniera bilanciata in più ti protegge su cortocircuiti sovraccarichi eccetera 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 perfetto perciò se devi andare a mettere due batterie sappi che tutte devono avere il bms il bms un altro grande punto interrogativo perché perché in commercio ragazzi esistono decine 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 centinaia di migliaia di varianti il problema in questi mezzi ragazzi è sempre quello è quello di avere poco spazio disponibile e ti faccio l'esempio io sul mio kirin sono stretto strettissimo ora un po più spazio perché nel sottopedana perché ho una batteria originale che da 13.5 ampere ora almeno così dicono in etichetta monta celle 21 700 non 1850 e in teoria facendo i calcoli dovrebbero essere celle 21 700 da 4500 mAh cada una moltiplicate per 3 arrivi a circa 13.5 perciò è un 13 s 3 p perfetto tornando alle bms ragazzi questo è il cuore oltre che ovviamente tu vai a fare una buona batteria devi optare per celle buona per forza e oltre quello devi optare anche per un bms buono perché ragazzi perché il bms è quel diciamo punto di connessione tra il pacco batterie e il tuo motore che poi è vero che tra il motore e il bms ci sarà anche la scheda di controllo del motore cioè la centralina vera e propria che ti pilota il tuo motore perciò vedi questi mezzi ragazzi sono semplici però nello stesso tempo complessi quelli che trovi in commercio lasciano il tempo che trovano ragazzi cioè il mio kirin io ho avuto modo di smontarlo e la parte dove hanno ti metto qualche foto dove ci sono tutte le varie connessioni ragazzi è un macello hanno inserito in quello spazietto oltre un centinaio di cavetti cioè un lavoro fatto a piedi di gallina davvero cioè se io ora ci devo mettere mani c'è un casino e lì non si scherza ma sapete perché non si scherza ragazzi e questo poi comunque nei prossimi video ne parleremo approfonditamente vi farò un'analisi del tutto non si scherza perché lì c'è la bellezza di 48 volt in circolazione e in più ciliegina sulla torta in uscita la batteria non hanno messo neanche un fusibile cioè cose che io dico a tutti i miei studenti cioè chi mi segue sa che io ho un corso online dedicato alle batterie litio se vuoi imparare a lavorare con le batterie assemblare pacchi studiare questa tecnologia e loro sanno che io in uscita alla batteria oltre al bms metto sempre un fusibile ragazzi cioè in questo monopattino il fusibile non c'è o meglio non c'era perché io ho già fatto qualche adattamento l'ho adattato ho messo un bel connettorino con fusibile bello grosso eccetera 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 cioè non puoi andare a fare un lavoro simile senza fusibile è anche vero che però ragazzi io il fusibile l'ho messo sì però non tutti sono in grado a fare una lavorazione simile per questo io vi invito se siete interessati in questo settore di seguire il canale iscrivervi e su amazon trovate i fascicoli tecnici dedicati anche ai fusibili dedicati alle batterie dcs 7s 3s eccetera 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 e mi raccomando per questo video abbiamo fatto anche troppo nel prossimo ragazzi vi voglio parlare di questa connessione approfondita parallela comunque tornando al discorso vediamo se riesco a stare sotto i 10 minuti e connettere batterie in parallelo si può certo che si può nel nel fatto concreto basta avere un impianto studiato ad hoc bms studiato ad hoc di buona corrente di spunto entrambe e tu avrai tanta più potenza è anche vero una cosa ragazzi se il controller del motore che monte il tuo monopattino la tua bicicletta è troppo piccolo dovrai andare anche a potenziare quello o addirittura eliminarlo e andarne a mettere uno più grosso cosa che io nel mio novattino non so se riesco a fare la modifica perché perché hanno fatto un casino di fili ragazzi cioè io non posso spostare quel controller perché a due centimetri ci sono un milione di cavi e ho paura di fare danni anche perché perché ancora non conosco in totale l'impianto elettrico di questo mezzo comunque le foto le hai viste te le rimetto ora qui in schermata e iscrivete al canale mi raccomando seguimi arriveranno tanti tanti video interessantissimi ciao e al prossimo video